Fare la raccolta differenziata è più facile di quanto credi. Per la raccolta della frazione umida, usa solo i sacchetti compostabili, come quelli forniti da Ecotecnica, o che comunque abbiano stampato il marchio di compostabilità. Sono, invece, assolutamente da evitare le buste di plastica tradizionali, che, per legge, non possono essere utilizzate per la raccolta dei rifiuti organici. Oltre ai sacchetti di plastica tradizionali, non si possono utilizzare quelli in plastica leggera e quelli con diciture generiche come biodegradabile entro 3-5 anni o in tempi medio-lunghi. Difendi la natura. Sono una busta ecologica. La natura ci sta a cuore. Un sacchetto di plastica tradizionale impiega tantissimo tempo a distruggersi. Un sacchetto biodegradabile si riduce in polvere, invisibile all'occhio nudo, ma questa polvere di plastica rimane nell'ambiente ugualmente per decenni. I sacchetti compostabili, invece, sono ottenuti a partire da sostanze vegetali, Il processo di smaltimento è molto più semplice e l'impatto ambientale è davvero molto ridotto. I sacchetti compostabili possono essere inseriti nella compostiera o utilizzati nella raccolta differenziata come contenitori dell'umido o rifiuti organici, esattamente come le bucce e gli altri scarti vegetali potrà essere compostato e trasformato in terriccio fertile. Attenzione! I sacchetti compostabili possono essere utilizzati solo per la raccolta dell'umido. Non sono adatti per altri tipi di raccolta differenziata come quella della carta, della plastica, del vetro e dei metalli. Se ami l'ambiente e vuoi rispettare il posto in cui vivi, utilizza esclusivamente i sacchetti compostabili. Se ami l'ambiente, fai il gesto giusto! Ecotecnica. La professionalità al servizio dell'ambiente.